ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti a questo nostro primo appuntamento della settimana ora che siamo tornati a regime come sapete martedì e venerdì ci sono i nostri appuntamenti live e chi vuole perderseli spero non voi perché come sempre andiamo a dare un'occhiata ai grafici alle notizie alle posizioni al trading a tutto quello che succede un po nel mondo delle cripto che in questi giorni in questo periodo è particolarmente caldo sembra che ci voglia dare una battosta a noi che speravamo nel bull market però ovviamente non tutte le speranze sono ancora perdute nonostante il fortissimo sell off che abbiamo avuto i giorni scorsi come sempre se ci sono problemi di audio di video di qualcosa ditemelo datemi un feedback nella chat perché qui è sempre una sorpresa ultimamente il pc mi sta facendo abbastanza capricci insomma non vi sto a raccontare tutti i casini che sono successi l'altro giorno che ho provato ad aggiornare il sistema operativo in ogni caso come al solito partiamo con il rispondere alle vostre domande e poi andiamo ad esaminare i grafici quindi partiamo da bitcoin andiamo a vedere le mie posizioni in altcoins che sono sempre lì che mi fanno sudare qualcuna mi sta facendo godere un po di più qualcuno un po di meno ma bene o male non è cambiato nulla rispetto dalle ultime volte tuttavia le andiamo a vedere come sempre facciamo il nostro aggiornamento si sente bene mi fa molto piacere mi raccomando usate la chat per fare domande perché il bello di questi live lo sapete è l'interazione che c'è tra di noi l'ho già scillato anche su telegram quindi posso chiudere e quasi quasi inizierei subito andando dritti al punto con le vostre domande così da iniziare belli carichi dritti al punto puoi dirci qualcosa di app bozzi intanto stavo leggendo qua sotto ed effettivamente volevo proprio andarla a vedere insieme a voi perché è la prossima io di ftx però ve la lascio qui per dopo non mi ricordo neanche dove era insomma l'avevo trovata da qualche parte vabbè facciamo che la andiamo a cercare app bozzi eccolo qua dove sei dove sei dove sei vabbè cercavo il loro sito tuttavia facciamo che magari ci buttiamo un occhio dopo in ogni caso era una delle notizie che vi volevo portare sott'occhio perché ultimamente insomma eccola qua infatti ultimamente quello che combina ftx e i suoi dintorni è molto interessante sapete che si sta muovendo in maniera abbastanza esposta nel mondo della defi ha acquisito sushi swap magari spendiamo due parole anche sulla telenovela di sushi swap non so se vi potesse interessare oppure no ha acquisito blocfoglio non so se lo sapevate ma ftx ha acquisito anche blocfoglio ha fatto una la prima io che era serum che è stata una bomba poi c'è stato una seconda io di una piatta di un insomma una platform si di defi per il la creazione la vendita e l'acquisto di opzioni in maniera defi quindi senza anche in questo caso una clearing house quindi un intermediario si chiamava edge edge qualcosa non mi ricordo e adesso c'è la terza che sarà upbots che è una piattaforma automatica eccolo upbots.com già che ci siamo ne parliamo subito una piattaforma automatica per andare a gestire un portafoglio che includerà la possibilità di automatizzare strategie di entrare uscire automaticamente da posizioni e da incluse lo yield farming quindi questo lo rende veramente interessante e soprattutto la possibilità di copy trading quindi perché no magari ci faremo qualcosa anche noi vediamo adesso sono combattuto tra token sets e le alternative però mi piaceva l'idea di token sets quindi magari continuo lì in ogni caso è un progetto da seguire come sempre io non investo nelle I.O. lo sapete ormai le token sale non sono assolutamente la mia passione anzi tutt'altro però vale la pena seguirle in particolare io ultimamente è da un po che ve lo dico che ho sta fissa con ftx lo sapete con la lameda research e compagnia bella però direi che ormai è abbastanza evidente che loro si stanno muovendo in maniera che può essere definita più o meno corretta ok il caso sushi swap in particolare però insomma qualsiasi cosa toccano diventa oro più o meno quindi io vi consiglio di seguirli spassionatamente ok senza nessun tipo di advertising perché non ho nessuna filiazione né niente ma io vi consiglio se volete insomma seguire un progetto in crescita tutto l'ecosistema ftx serum e ciò che ne viene intorno secondo me vale la pena seguirlo il buon vecchio sam è un poi il nuovo sisi secondo me si sta muovendo in quella direzione lì allora iniziamo con le vostre domande poi magari approfondiamo qualcosa allora ci siamo speriamo che oggi vada meglio dell'ultima volta questo l'ho detto io perché chi c'era lo sa ogni tanto saltellava la connessione quindi speriamo che twitch me la mandi buona oggi prima live grande lollo benvenuto mi fa piacere spero che ti piacerà buonasera a tutti sabato non ce l'ho fatta ero in viaggio e vabbè capita anzi beato te oserei dire e spero che tutti sia goduto la differita sul tubo che sapete la metto sempre a disposizione ciao a tutti finalmente riesco a seguire la diretta benvenuto anche a te allora ciao luca secondo te in futuro il mercato cripto sarà ancora fortemente correlato a bitcoin o bitcoin potrebbe diventare una cosa a sé stante come è l'oro per il mercato azionario bella domanda guarda io penso che finché la maggioranza dei volumi scambiati in cripto sia passi attraverso bitcoin ovvero euro moneta fiat stable coin bitcoin e ether magari e poche altre e poi da bitcoin c'è la diluizione cioè il capitale si muove nelle altre alt coins ora come ora funziona più o meno così la maggioranza dei volumi quanto meno segue questo flusso e questo è un po quello che le rende correlate soprattutto anche il fatto che la volatilità e la speculazione sulle alt coins è alle stelle e questo ovviamente le rende meno appetibili di bitcoin dal punto di vista di investimento questo è un po quello che accade allo stato dell'arte quando bitcoin si muove di poco o di molto che sia le alt coins si muovono in maniera amplificata si genera molto movimento molta volatilità molta turbolenza e quindi quello che accade è che il capitale in alt coins fluisce in bitcoin per poi fluire in fiat o rimanere in bitcoin nel caso in cui bitcoin stia pompando nel caso in cui bitcoin stia dampando invece il flusso è alt coins bitcoin fiat per uscire dal mercato e questo è un po un'altra causa del fatto che il mercato delle alt coins è fortemente correlato a bitcoin tutto il mercato cripto è fortemente correlato a bitcoin infatti se voi guardate il grafico della della market cap totale la capitalizzazione totale del mercato cripto è veramente simile a bitcoin a volte da qualche spunto in più come oggi lo andiamo a vedere però in buona parte ovviamente essendo la capitalizzazione cripto per la stragrande maggioranza composta da bitcoin ovviamente i due grafici sono estremamente simili si sente bene benissimo ottimo mi fa piacere situazione ample andiamo a buttare un occhio ad ample questa pazza coin che in realtà non ho nemmeno sulla watch list però in sostanza male malissimo direi ample male malissimo 0.67 quindi rebase negativo non ci siamo ancora ample diventa interessante solo quando entra in un loop a feedback positivo sapete un po come funziona no in sostanza quando il suo prezzo diventa superiore a 1,05 dollari oppure diventa inferiore a 0.95 circa ok inizia la fase di rebase in particolare quando gravita qua sopra il rebase è positivo in sostanza la supply aumenta e quindi vengono create nuove coin e molti dicono monete gratis in realtà non è così perché è una dinamica finalizzata ad aumentare la supply e andare a diluire un po la domanda diluire un po il valore lo scopo quindi è stabilizzare il prezzo nell'intorno del dollaro cosa che al momento come vedete è tutto fuorché successo proprio perché è vista ancora come un asset estremamente speculativo i volumi sono molto alti perché c'è interesse verso questo asset che è un po agli albori non è uno scam non è un ponzi non è niente di niente è una cosa strana è una novità un esperimento in quanto tale lo guardo senza entrarci dentro sapete che il mio approccio a basso rischio quando vedo una cosa strana io la lascio lì dov'è e in sostanza il quello che farei se ci dovessi entrare a tutti i costi sarebbe di entrare qualora dovessi vedere una fase di stabilizzazione un po più prolungata intorno al dollaro che permetta un po di stabilizzare il mercato verso un nuovo fair price che dovrebbe essere il suo e poi magari l'inizio di una fase a rebase positivo perché spesso durano ok le fasi i loop a feedback positivo durano perché rebase positivo più coin il prezzo sale e airdrop viene visto un po come un airdrop e quindi c'è più domanda che tiene alla pari il prezzo e così via e dura per un po fin tanto che non avvengono i sell off come vedete in passato è durato parecchio poi vabbè questa era una fase di parecchia fomo poi si è spento però di solito c'è tempo di capire come funziona quindi stabilizzazione intorno al dollaro superamento del dollaro stabilizzazione vuol dire almeno una settimana e non che ci che lo sfiora e torna indietro perché altrimenti non si crea un un fair price non si crea un prezzo di mercato convincente quindi questa è un po la mia visione su Amplefort che ripeto resto a guardare perché in ogni caso è un asset molto strano più che il prezzo ci sarebbe da guardare la market cap per capirlo proprio perché è la capitalizzazione a variare dato che soltanto non soltanto il prezzo varia ma anche la supply quindi quello è un valore un po più completo per analizzarlo adesso torniamo su bitcoin non me ne vogliate ma Amplefort lo sapete che è un po un macello dunque dunque dove siamo arrivati siamo arrivati puoi dirci qualcosa di abbozza ne abbiamo già parlato un attimino sul canale di cavicchioli c'è un'intervista a barrai da non perdere ci darò un'occhiata grazie per la per la condivisione ciao a tutti rieccomi in live anch'io entrato dalle vacanze grande ben ritrovato ahimè le vacanze finiscono ciao a tutti finalmente sono riuscito a partecipare ad una live benvenuto anche a te ciao luca ben ritrovato cosa ne pensi di coin telegraph e decryptonomist ma che dire sono le due testate più seguite a livello italiano io ti consiglio anche cripto rivista che conosco bene chi la gestisce e sono molto appassionati sono molto sul pezzo quindi aggiungerei anche questa alle fonti da seguire e che dire sono fonti di news interessanti ci sono c'è qualche clickbait ogni tanto insomma è giornalismo lo conosciamo però come fonte di news sicuramente vale la pena tenerla in considerazione iost è il terzo live che lo chiedo giuro che lo andiamo a vedere tra poco promesso iost buongiorno amici cripto investitori benvenuto donct anche a te che sei sempre presente e sul pezzo ciao luca cosa ne pensi del progetto young platform allora un progetto italiano che non lo conosco molto bene dico la verità perché non l'ho mai approfondito il motivo è che mi sono chiesto la domanda cioè di solito mi pongo la domanda quando vedo una nuova piattaforma è un exchange mi pare c'è di più è non voglio banalizzare quindi non me non me ne vogliate se dico una cavolata la domanda che mi pongo è perché utilizzarlo e non ero riuscito a rispondere a dire la verità quindi sono rimasto lì non ho capito le fees mi sembravano medio alte c'erano altri competitor insomma che mi pareva facessero quello che fanno loro in maniera più utile ma è un mio personalissimo parere non voglio buttare cacca addosso a nessuno perché bisogna assolutamente supportare tutti i progetti nascenti in particolare quelli italiani tuttavia io personalmente non l'ho mai utilizzato oggi una domanda da farti assolutamente vai falla riguarda bel protocolle vorrei sapere se pensi sia meglio mettere bnb o busd in stake se guardi bene nelle tabs lì dietro infatti ne parliamo perché è una genialata sta ultima trovata di binance ragazzi cioè non so è sisi tira sempre fuori delle perle dal cilindro che sono allucinanti stay tuned perché tra poco ne parliamo ma anzi facciamo così parliamone subito visto che l'hai chiesto allora che cos'è cosa succede binance per cavalcare un po il il trend dello yield farming no del mettere in staking token per guadagnare altri token ha deciso di lanciare un suo pool anzi di andare a unire il concetto di pool perché ci sono già i pool di staking in binance con il concetto di io il concetto di launchpad vi ricordate la loro famosa lotteria no che tu prendi i ticket in base a quanti bnbi hai in base al numero di ticket hai più o meno possibilità di essere estratto e quindi di partecipare al token sale alle io di binance questo è un po diverso perché mischia questi due concetti cosa vuol dire vuol dire che hanno creato questi pool il pool in particolare di bnb busd o arpa che non conosco dico la verità sono ignorante e in sostanza se tu partecipi se voi partecipate a questi pool potete andare a ottenere i token bell che è questo bella protocol che è la prima launch pool viene chiamata che è un po appunto una crasi tra launchpad e pool per l'appunto è un progetto interessante ed è una genialata perché perché è andata ad aumentare in questo modo la domanda per bnb e busd anche ma busd è una stable coin e quindi è bnb ad averne giovato di più in assoluto io sono contento perché come sapete ho una posizione speculativa e una di holding in bnb e la cosa non può che farmi piacere in ogni caso come funziona allora funziona che adesso non sono non ho fatto l'accesso a bnb però se voi entrate e andate nelle varie cose nella parte pool che c'è anche nella app eccolo binance pool adesso andiamo a vedere se me lo me lo fa fare ecco c'è anche staking adesso forse non è non è qui o forse nello staking adesso non ricordo però dovrebbe esserci staking bloccato forse no defi staking ecco forse è questo che poi adesso chiamarlo defi magari è un po no in realtà questo si utilizza le piattaforme di defi no non mi ricordo bene dove mi ricordo che sull'app c'è proprio pool e andando in pool si riesce direttamente a farlo da lì io l'avevo guardato lì e in sostanza quello che accade adesso ritorno a dove ero prima perché quello che vi volevo spiegare era il caso specifico in sostanza mettendo in staking il proprio ecco lo aspettate forse la propria quantità a scelta di bnb di busd o delle altre coin supportate ogni giorno si viene vengono accreditati dei token bell in base ovviamente a quanti ne vengono messi in staking a quanti bnb e quanti busd eccetera mettete in staking in sostanza come viene calcolato tutto questo allora viene calcolato con degli snapshot giornalieri che vanno a mediare in sulla propria giacenza nel pool all'interno del pool e sono stati allocati 4 milioni e 500 mila bell nel pool di bnb 450 mila nel pool di busd e 50 mila nel pool di arp la cosa interessante tra l'altro questo in realtà poi non me l'ha preso vabbè volevo farvi vedere sto pool adesso mi era rimasto in testa di di farlo però purtroppo secondo me devo devo loggarmi per per mostrare poco male in ogni caso ci provo ancora in ogni caso quello che succede che non bisogna neanche tra l'altro spendere i propri bnb per farlo perché viene il droppato questo token quindi voi tenete li bnb li mettete in staking e oltre a eccolo qua l'ho trovato finalmente ce l'abbiamo fatta quindi savings c'è da andare in finance savings e poi dentro a savings vedete ci sono i tre pool quindi il bnb pool dallo 0 e 27 per cento annuo di suo quindi questo è il suo staking pool il pool di busd 5 80 per cento il pool di arpa 1 per cento inoltre vedete che sono etichettati come launch pool quindi andando a trasferire dei le proprie coin all'interno di questi launch pool a questi pool che ne fanno parte permette l'air drop dei token bell quindi dovete semplicemente tenerli lì si possono un stake in qualsiasi momento quindi svincolare non c'è nessun tipo di vincolo e vi ripeto è un airdrop quindi non c'è da spendere i bnb ed è questa la cosa geniale che insomma non devi più nemmeno pagarla la io ma te l'air drop hanno in testo ovviamente le quantità sono minori perché a meno che non siate delle balenottere di bnb e delle altre coin insomma non è che vengono erogate quantità industriali per di questi token vedete qua c'è un esempio di quanti ne vengono erogati giornalmente però insomma è che dire è un airdrop quindi fa sicuramente piacere riceverlo vi consiglio assolutamente di farlo anche perché il mettere i bnb in quel pool io ad esempio sto usando i bnb perché ce li ho è a rischio zero a costo zero e inoltre gli stessi bnb mantengono i loro vantaggi quindi il vantaggio ad esempio io ho i bnb al fine di poter generare il referral link per voi che vi dà lo sconto del 20 per cento il vantaggio rimane il se ci fosse un launchpad il vantaggio rimane si possono usare anche per il launchpad per le minori fisi livelli vip eccetera anche quelli rimangono quindi a costo zero e a soltanto vantaggi il consiglio ovviamente di farlo in bnb busd se volete anche se non avete bisogno ovviamente di quella liquidità e volete utilizzare anche il rendimento che è un pelino più alto su busd questa è l'unica differenza 580 annualizzato il progetto bell in sostanza una piattaforma all in one di defi che punta a incrociare tutti i servizi principali che possono essere necessari nel mondo defi liquidity mining savings quindi ovviamente il pooling quello che fa un po' young finance che l'abbiamo un po' visto ieri e poi dei protocolli semplificati per saltare da un prodotto all'altro che sapete adesso è un po' complicato tuttavia se volete approfondirlo lo potete trovare sulla pagina di binance oggi non voglio stare a parlare di questo altrimenti stiamo qui un'ora soltanto per bella protocol vi consiglio di partecipare a costo zero ripeto e questo ha inoltre aumentato la domanda di bnb non c'è un minimo da mettere in staking però ovviamente se tu metti ve lo sto leggendo le domande se tu metti meno avrai una quantità inferiore adesso non ricordo bene il calcolo esatto però tutti i dati li dovresti trovare qui ok e poi dipende dal totale ecco in sostanza è un rapporto cioè se tu hai 10 bnb supponiamo e il totale di tutto il pool sono 1000 bnb tu prenderai un centesimo ok perché tu hai l'uno per cento del pool quindi se il pool è gigantesco è di un milione di bnb e tu ci metti 10 bnb è in sostanza un niente o quasi però insomma è il metodo che hanno scelto e ripeto è a costo zero quindi non c'è assolutamente niente da perdere continuiamo con le vostre domande ciao luca cosa ne pensi di avax i prossimi ethereum spuntano come funghi allora non lo conosco a dire la verità anche se scusate anche se la percentuale per lo stake di bnb è inferiore pensi che l'airdrop di bell sia più importante per lo stake rispetto a busd guarda io penso che sì sinceramente sì io sceglierei bnb perché il rendimento è abbastanza trascurabile su busd un 5 per cento annuo non è granché a meno che tu non voglia tenerlo lì poi per lungo periodo è però sinceramente se non si parla di somme ciclopiche io utilizzerei bnb anche perché su bnb c'è un'allocazione maggiore di token bell quindi c'è una forse una possibilità anche maggiore di ottenerne credo una quantità maggiore insomma quindi io io farei quello torniamo indietro scusate l'avevo vista lì una domanda sul tema quindi l'ho presa cosa ne pensi di avax i prossimi ethereum spuntano come funghi guarda i prossimi ethereum lasciano il tempo che trovano perché non ci sarà nessun prossimo ethereum io credo che ethereum sia unico in quanto community in quanto ecosistema di sviluppo e non credo che verrà soppiantato semmai verrà affiancato questa competizione è avalanche magari la conosci con questo nome no purtroppo non la conosco in realtà ti volevo dire che i prossimi ethereum non sono i prossimi ethereum saranno delle piattaforme che lo affiancheranno come ad esempio polkadot magari tron chi lo sa ultimamente tron sta facendo delle mosse che non sono da buttare via sta creando un suo piccolo ecosistema poi può piacere può non piacere a me continua non piacere granché io sono molto concentrato su ethereum perché vedo lì il grosso dello sviluppo il punto forte di ethereum è la community ok la community che punta sempre alla condivisione alla creazione e all'uguaglianza diciamo perché come sapete molti puntano soltanto quasi a fare i loro interessi la community di sviluppo intorno a ethereum invece sembra più orientata allo sviluppo e alla community stessa alla crescita stessa vitalik buterin in particolare un personaggio molto strano ma a me sembra un bravo cristo insomma una persona abbastanza altruista e questo crea un ecosistema fertile per lo sviluppo molto partecipativo ed inclusivo al di là di questo ovviamente poi tutte le piattaforme al momento sono principalmente su ethereum e questo è un grosso stress test che mostra che funziona è da anni che funziona ha dimostrato quello che doveva dimostrare quindi le piattaforme che nascono ora magari si hanno le potenzialità di migliorare però poi c'è da vedere se vengono adottate che cosa ottengono per davvero se si rivelano sicure oppure no quali sono le loro debolezze eccetera 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 e quindi è tutto da vedere come dicevo allora ciao a tutti quelli che partecipano a questo pazzo mercato anche io mi aggiungo a questo saluto massima biblica del giorno attenzione attenzione così come Mosè condusse il suo popolo verso la terra promessa così noi seguiamo te alla ricerca della libertà finanziaria per l'amor di dio non elevatemi a questi a questi ranghi che poi non riesco a tenere testa al ruolo no io sono uno di voi che cerca di capirci qualcosa appunto in questo pazzo mercato insieme a voi per l'appunto con razionalità ciao Luke mi piacerebbe chiarire quando conviene operare anticipando il mercato con dei limit buy e quando invece aspettare l'approccio a livello chiave grazie gran bella domanda soprattutto considerando che adesso io sono dentro una posizione anticipatrice che ho aperto proprio perché ero un po' biased diciamo lo sono ancora ovviamente a meno di verificarsi dello scenario di invalidazione però che dire quali sono le differenze allora le differenze principali se applicare una posizione anticipatrice oppure no sono date dal bias cioè più un mercato è bullish ok quindi in crescita molto forte con un uptrend sostenuto volumi alti candele piene fasi di storno molto piccole allora ti viene voglia di tenere aperte delle posizioni anticipatrici perché perché se dovesse accadere una liquidazione di massa di posizioni in leva quindi un flash dump in sostanza c'è maggior probabilità che ciò sia veri ok quindi questa è una delle caratteristiche il mercato in trend molto forte un trend molto forte solitamente è accompagnato da posizioni in leva molto alta e quindi un inizio di storno un sell off solitamente innesca tante liquidazioni e abbassa notevolmente il prezzo che poi risulta subito in un riassorbimento dato che appunto il mercato è fortemente bullish e si hanno i flash dump in questo caso può essere molto profittevole tenere lì dei limit buy in posizioni anticipatrici proprio perché si va a godere di queste liquidazioni di queste cascate di stop altrimenti che fare se il mercato invece è in lateralità piuttosto che incerto oppure che si muove in maniera abbastanza regolare allora in quel caso lì dove non ci sono turbolenze particolari ha forse più senso attendere dei movimenti più confermati come un breakout e retest piuttosto che un pattern engulfing che mostra il presenziare di domanda oppure insomma qualcosa che già ci mostra che la domanda c'è senza dire io l'aspetto lì perché mi aspetto che lì si presenterà domanda questa è un po' la differenza un'altra cosa che tengo in considerazione è la volatilità intrinseca dell'asset perché come abbiamo detto prima che conta molto la volatilità in caso di flash dump conta altrettanto di più sulle altcoins a mio parere perché perché le altcoins sono più volatili e quindi molto spesso tenendo un limit buy magari anche più distanziato anche in un punto che diresti ma non ci tornerà mai non si può mai sapere perché a volte le altcoins flash dumpano molto più spesso e quindi io sulle altcoins soprattutto in posizioni lontane dal prezzo attuale quindi non da esserci appiccicato io utilizzo delle posizioni anticipatrici chiaramente non bisogna solo considerare questo ma bisogna anche considerare dove posizionare lo stop loss perché non ha senso mettere una posizione anticipatrice se poi c'è lo stop loss molto lontano in quanto vado a entrare in una posizione che ha un rischio rendimento sfavorevole oltre che il rischio dell'anticipazione quindi ho un profilo rischio rendimento che è ancora più sfavorevole al contrario se magari vedo un supporto bello che è un bel pool di liquidità oltre che supporto c'è magari uno stop loss vicino c'è un rischio rendimento che ha una buona un buon profilo magari multiplo di uno un due tre allora quello può giustificare il fatto di aprire una posizione a maggior rischio perché ovviamente una posizione anticipatrice è a maggior rischio in quanto io non ho ancora il segnale che mi dovrebbe dire entra e quindi quello è sicuramente un altro vantaggio con un rischio rendimento più alto posso permettermi di utilizzare un size minore e quindi andare a tenere il rischio controllato più controllato a fronte di un maggior rischio di posizione rischio magari meno capitale con R mezzi di capitale rischiato supponiamo e un rischio rendimento pari a 4 ad esempio mettendo il mio entry nel posto giusto e lo stop loss al posto giusto posso andare a profittare di 2R ed è un ottimo profitto per un trade di questo tipo questo è un po' il discorso su... spero di non essere stato troppo tecnico ma è un po' il discorso riguardo posizione anticipatrice versus posizione più follower ecco poi un'altra cosa che vi volevo dire già che siamo qua è che per tutto il mese di settembre se ogni tanto vedete scillato il messaggio in chat è per questo sull'exchange by bit col quale sapete io collaboro ve lo dico sono affiliato ho il mio referral link ormai lo sapete ogni tanto facciamo le promo e per tutto il mese di settembre chi si è iscritto col mio referral link in passato oppure chi lo fa adesso ha diritto a uno sconto del 20% sulle fees da maker quindi sugli ordini di tipo market le fees sono ridotte del 20% per tutto il mese di settembre quindi approfittatene allora andiamo avanti con le vostre domande allora FTX con sushi direi che l'hanno fatto un po' da furbi non so se hanno giocato pulitissimi totalmente d'accordo secondo me cioè anzi non secondo me sicuramente non è stato per altruismo come qualcuno crede qualcuno dice ma è stata un'operazione da insider tra l'altro in FTX hanno farmato sushi a manetta hanno preso una porzione di voto molto molto forte poi c'è stato questo intrallazzo che non so come chiamare tra appunto Sam e Chef Nomi di FTX e quindi di sicuro c'è stato qualche insight però che dire un'integrazione di SushiSwap che ricordiamoci ha assorbito tantissima liquidità da Uniswap che è l'exchange, il DEX più utilizzato in assoluto nel giro di pochissimo tempo perché era un modello interessante l'integrazione di SushiSwap magari modificando alcune cose come il fatto che la supply di Sushi è praticamente iperinflattiva e quindi dà poco incentivo al detenerlo diciamo la verità Sushi è fatto per essere farmato e dampato sul mercato quello era il suo scopo ma magari modificando quello quindi magari facendo dei lock sulla supply di Sushi per chi lo crea se lo deve tenere lì per un po' poi andando a creare altri incentivi limitandone la supply anche in altri modi sicuramente potrebbe diventare interessante integrando tra l'altro la sua liquidità con l'ecosistema e l'order book di Serum con tutto quell'ecosistema che stanno creando veramente rischia di diventare un progetto interessante io nella watchlist tutte le coin tipo Solana, Serum, FTT ovviamente Sushi, tutte quelle coin lì che fanno parte di questo giro losco io ce le ho ben sott'occhio perché vale la pena seguirle non dico di buttarci sì dentro ma sì di seguirle Hai visto la Dapp Gaming 0x Universe? No, non l'ho visto purtroppo Prima live anche per me Grande Fabio, benvenuto Ciao Luca, ho aderito suo P-Start al progetto di The Rock Trading o di The Rock Holding Digital Rock Holding in realtà Ho fiducia in loro anch'io ho moltissima fiducia in loro e secondo me hai fatto bene Luca sei un grande sto imparando un mondo grazie a te mi fa un sacco piacere guarda non sai quanto ci tengo che i miei contenuti siano di utilità a qualcuno è la cosa che più mi fa piacere Ciao, che ne pensi del cloud storage su blockchain? Ma guarda, ora come ora non ci vedo delle particolari utilità pratiche cioè è vero, il protocollo cos'è? i PFS, il file storage decentralizzato può essere fondamentale per alcune applicazioni però non è ancora arrivato secondo me su larga scala quindi è un settore che è ancora forse un po' piccolo un po' di nicchia deve ancora trovare il suo ruolo in tutto questo marasma puoi fare il punto su Ampl ma dunque dimmi se non ci siamo capiti non si è capito qualcosa non lo so Ampl è iper speculativa al momento è in una fase ribassista quindi è da lasciare lì io non farei degli azzardi tipo dei by the dip o follie del genere perché non è veramente il caso semmai, se proprio abbiamo la fregola di farlo aspettare la fase a loop positivo e stare attenti che se la perde di chiudere la posizione e lasciare lì non di fare follie strane se uno vuole fare la sua scommessina fare un buy and hold ci sta ma considerando perso tutto quello che ci ha messa ecco questo è il mio parere allora, 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 allora Luca hai per caso un ref per FTX? ma che domande fai? io sono l'uomo ref io ho un ref per tutto lo trovi sul mio canale YouTube aspetta che forse ce l'ho anche qua dentro se riesco a trovartelo ce l'ho, eccolo, l'ho trovato ovviamente comunque di solito eccolo tutti i miei referral link li trovate nella descrizione in tutte le descrizioni dei miei video su YouTube perché? perché è il modo che avete per contribuire a questo canale al mio lavoro e alla community come sapete la mia politica è di creare contenuti per tutti ho fatto il mio corso di trading completamente gratuito su YouTube tutte le analisi gratuite non faccio gruppi premium non faccio cose strane faccio quello che vedete quindi se volete contribuire il modo è quello utilizzare i miei referral link e per voi è a costo zero oppure potete anche iscrivervi ad esempio a fare la subscription qua su Twitch che se avete Amazon Prime anche essa è a costo zero e vi ricordo di rinnovarla ogni mese allora andiamo avanti andiamo avanti dunque 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 quanto è importante osservare la capitalizzazione di mercato per decidere un'operazione di accumulazione dunque che dire ovviamente se la capitalizzazione è più alta le prospettive di crescita esponenziale sono minori però c'è da vedere qual è lo scopo di questa accumulazione cioè dipende da che cosa vuoi fare cioè se vuoi tentare di fare il botto ovviamente non puoi farlo con una coin che è già ipercapitalizzata però non si parla neanche più di investimento forse si sta andando a finire nel gambling se invece vuoi investire in un progetto per in una coin per una crescita organica fregatene della capitalizzazione e guarda semplicemente il trend e l'andamento ovviamente a patto che non sia in bolla perché in quel caso lì perde completamente di senso però quando semplicemente investiamo in bitcoin per dirne una non è che diventiamo matti dicendo quanto è capitalizzato quanto non è capitalizzato altrimenti non lo comprerebbe nessuno io penso che sia più importante concentrarsi su altro che sulla capitalizzazione ovviamente ripeto se uno vuole fare la scommessina di fare il 10 per cosa che io forse in voi cercherei di pensare ad altro però ovviamente lì c'è da guardare le coin meno capitalizzate chiaramente tanta stima ma quando dici che Bidau non vale nulla per te senza dare spiegazioni scadi a tutti dal cuore no in realtà l'ho date le spiegazioni è che me l'avete chiesto talmente tante volte che non lo so insomma forse forse non mi sono spiegato allora vi spiego un po' il mio parere prima cosa la ICO durata quanto un anno non so neanche bene com'è funzionata mi ero letto il whitepaper al tempo per cercare di capire poi ero una sorta di clone di MakerDAO sulla Binance Chain che è centralizzata cioè non è decentralizzata è vero c'è l'interoperabilità e tutto quanto però tra l'altro adesso ho letto sono diventati un token RC20 e si listano su uniswap ma cioè incredibile mi ha confermato ancora di più la mia idea poi non voglio non voglio convincere nessuno di una cosa o di un'altra però la mia idea è sempre stata quella ve l'ho sempre detta con estrema trasparenza con quello che penso io ve lo dico e secondo me era già obsoleta nel momento stesso in cui è nata perché era un clone di MakerDAO che è la DeFi era la DeFi è nata da lì la DeFi su una blockchain centralizzata ok quindi già quello e poi adesso ne vogliamo parlare che la DeFi è decollata arriva questa nasce così sì che ruolo ha nel mondo boh ditemelo voi questo è un po' il mio parere poi allora buonasera Luca che mi dici di Ether riprende Ether Ether sì riprenderà il trend positivo quando mai l'ha perso Ether è in uptrend è in super uptrend adesso sta un po' correggendo ma non è in downtrend di sicuro adesso tra poco andiamo a vedere i grafici eh mi raccomando non scappate volevo leggere ancora un paio di domandine vediamo che cosa abbiamo qui allora 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 Polkadot a 10 euro a Natale boom via sì sotto l'albero non lo so io penso che Polkadot sia un po' overhyped diciamo poi 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 ho appena acquistato 100 euro in Bitcoin sono un holder che dite bravo dai è un inizio spero che però tu sia davvero un holder e non diventi matto se il prezzo cala o fa cose strane perché se sei un holder sii un holder e magari pensa anche di frammentare un acquisto anziché fare un tutto dentro in una volta sola frammentarlo poi nel tempo è la cosa migliore ciao Luca parlando di hedging sono entrato su Bitcoin a 6.000 dollari ottimo in caso di perdita dei 10.000 pensavo di aprire uno short per compensare il drawdown ottima idea anche quella l'alternativa è uscire cercare di ricomprare sul ribasso quale delle due alternative può essere la più adatta in questo caso guarda sono assolutamente equivalenti perché in un caso tu semplicemente vendi nell'altro caso tu apri una posizione ribassista e quindi copri il risultato è il medesimo le variabili quali sono che con lo short puoi utilizzare la leva quindi magari puoi aprire una posizione in leva con uno stop loss ben definito dipende tutto da quello che vuoi fare puoi fare un approccio un pelino più speculativo sulla copertura short quindi appunto mettendoci uno stop loss vincolando un capitale come se fosse un'assicurazione immaginati e tu utilizzi quel capitale in leva per andare a coprire l'eventuale ribasso un'altra cosa che a me di solito fa propendere per lo short è il fatto che i futures io utilizzo i futures e non i perpetual per fare l'edging short perché non hanno il funding ogni 8 ore e solitamente i futures sono sovrapprezzati in particolare quelli a scadenza più lontana e quindi fai anche un po' di cash and carry già che ci sei altrimenti se tu non hai interesse in tutto questo tu puoi tranquillissimamente uscire da una parte della posizione che il risultato è lo stesso e magari ti fai meno pipe mentali se invece vuoi essere un po' più tecnico avere ben chiaro il profilo di rischio che hai il rapporto tra posizione short e long tutte queste cose qui allora valuta magari la copertura short speculativa vedi un po' tu insomma da un po' anche exodus ha messo lo staking su alcune monete beh dai ci sta anche perché è un wallet e ormai il detenere le coin nel wallet senza farci niente sta passando di moda quindi con la DeFi che impazza ci può stare anche se la percentuale per lo ok questa è la biangialetta dopo aver sentito un tuo video su BlockFi ho aperto un conto e iniziato a usarlo grazie del consiglio guarda io lo utilizzo da tanto ormai da mesi mi trovo veramente bene tra l'altro da poco ha incluso Pax Gold non so se avete visto non ve l'ho neanche shillata sta notizia ma che shiller sono pessimo no ha incluso anche Pax Gold mi pare che dia il 4% di rendita annualizzata su Pax Gold cosa ne pensi di Plu non ti rispondo neanche perché mi stai trollando in merito a Ether sulla 2.0 si ha un cronoprogramma chiaro grazie per il chiarimento guarda assolutamente no la risposta è no perché c'era la phase 0 che doveva arrivare entro il 2020 ma adesso probabilmente non sarà più così ci siamo quasi da un po' di tempo però la phase 0 in realtà avrà soltanto lo staking e la beacon chain quindi niente di fatto le altre fasi la phase 1 e la phase 2 in particolare arriveranno negli anni a venire quindi se vuoi un mio parere l'implementazione completa prima del 2022 inoltrato non la vedremo questa è l'idea che mi son fatto io si ma con le fee di adesso non può andare avanti sia vero le fees sono abbastanza proibitive però fermiamoci a ragionare su una cosa anche qui le fees da che cosa sono date da un mercato domanda e offerta quindi se le fee sono alte vuol dire che c'è gente disposta a pagare così tanto per fare una transazione se non ci fosse gente disposta a pagare questi prezzi si abbasserebbero le fees si farebbero meno transazioni e le fees si abbasserebbero quindi da un lato è vero bisogna aumentare la dimensione della strada quindi di ether per abbassare un po' le fees però se le fees sono così alte vuol dire che c'è utilizzo della piattaforma perché è mercato questo purtroppo va a finire che è a scapito nostro che siamo pesci piccoli e muoviamo cifre più basse e le fees ci bastonano molto molto di più per questo ritengo imperativo che la 2.0 sia lanciata completamente funzionante il prima possibile è vero però attenzione non c'è solo la 2.0 perché ci sono anche delle soluzioni intermedie di scaling i cosiddetti layer 2 ci sono le ZK rollups che è la possibilità di impacchettare transazioni in maniera più intelligente le optimistic rollups che è quelle che forse non vengono ancora usate no le ZK rollups le utilizza Loopring mi pare che è un DEX che le cui transazioni se lo provate costano un niente una nullità poi ci sono tutte delle soluzioni di sharding e di scaling già disponibili tipo OhmiceGo per dirne una che tra l'altro è utilizzata da Tether bisogna spingere un po' su quelle secondo me l'immediato deve focalizzarsi lì il 2.0 ve l'ho detto è una cosa lontana quindi non bisogna pensarci bisogna pensare a una soluzione più immediata quindi un sistema di scaling di ether tramite magari degli strati successivi o lo sharding questo è secondo me allora caro Luca ascolta qui sentiamo entro su i fee quindi quello con due i il primo clone quando era 4.000 con 12.000 dollari arriva a 10.000 ottimo non imposto su hobby alert il giorno dopo mi scatta allo stop loss che avevo lasciato 4.500 ho avuto e perso 24k di gain in un giorno welcome to crypto oserei dire aspettati che ti succeda ancora insomma il mondo è fatto così soprattutto sulle coin speculative come i cloni di york finance mi dispiace mi riguarda hai tutta la nostra solidarietà d'ora in poi metti un take profit mannaggia un take profit in casa di pump allora 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 il volume profile che vediamo quanti giorni sta tenendo in considerazione tutto l'intervallo visibile quindi se io zoomo il grafico cambia andiamo a vedere adesso direi un po' di grafici dai andiamo a buttarci un occhio così vediamo la situazione che è la cosa più interessante in questo periodo allora bitcoin è in una fase di storno abbastanza violento è stato uno storno repentino che si è innescato con un sell off improvviso tac e tac vedete allora il sell off è stato soprattutto questo che ha innescato lo storno perché perché ha bucato questo range il range che era iniziato dal dall'up trend dalla fase terminale dell'up trend a fine luglio e che era culminato con questi falsi breakout che hanno marcato i massimi locali i range high tuttavia era come sempre come da definizione di range high il top del movimento terminale per l'appunto di bitcoin stesso e quindi era a 11.800 poi ci sono stati i falsi break quindi falsi attacchi al range high che però sono risultati appunto in un riassorbimento e alla fine invece è stato il range low ad essere perso perché l'offerta l'ha bucato con una candelona tremendamente grande tremendamente accompagnata da volumi che non ha lasciato adito a dubbi quindi ha detto il range è bello che perso quello che volevo fare io e qui torniamo al tema della posizione anticipatrice oppure no era di tenere aperta una posizione anticipatrice su quest'area vi ricordate da tempo lo dicevamo siamo in uptrend molto forte era quello che dicevo stiamo lateralizzando qui pertanto esiste la concreta possibilità di perdere il range fare un flash crash dovuto a tutta la liquidità che si trova sotto al range che quella non era una novità insomma sapete quanti stop loss si trovano sotto a un livello così importante come questo qui nato dal cluster nell'intorno degli 11.000 all'inizio del movimento stesso e allora ho detto ma sa facciamo i fenomeni andiamo a mettere un bel limit buy e sfruttiamo quelle liquidazioni perché mi aspettavo che triggerasse liquidazioni e stop e va a finire lì e poi subito la domanda l'assorbisse e facendo una sorta appunto di candela con una lower shadow lunghissima e riassorbimento immediato cos'è successo? è successo che non è andato come previsto perché anche questo capita bisogna tenerlo in considerazione in particolare è accaduto che non c'è stato nessun tipo di riassorbimento quindi lo scenario di flash dump è già bello che accantonato e io adesso sono con la mia posizione aperta il cui prezzo medio è 10.280 e qualcosa non ricordo ce l'ho segnato da qualche parte lo stop loss 9.400 e qualcosa sotto a questo livello tra poco vi spiego anche il perché e ho meditato più volte ho detto cosa faccio la tengo aperta la chiudo allora ho deciso di tenerla aperta nel caso in cui questa fosse una deviation la deviation in sostanza è il avere magari un movimento qui un supporto molto forte qua abbiamo un dump magari lateralizziamo un po' e poi ci ritorniamo dentro questa fase si chiama deviation che è una forma di falso break solo che non è fatta così cioè tac tac come il classico falso break che si chiude nel giro di poche candele ma è tac 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 ok questa è un po' la differenza si parla poi di tecnicismi alla fine è un falso movimento anche questo pertanto ho deciso di mantenere il setup come pensato all'inizio con stop loss sotto i 9500 per quale motivo perché qua abbiamo questo livello questo cluster 9500 e dintorni ma perché proprio lì perché come vedete qua c'è un altro riferimento importante ovvero il range all'interno del quale ci muovevamo un po' di tempo fa questo range che va dai 10.000 top 10.000 bottom 8.600 e qualcosa se noi andiamo a perdere cioè in realtà già se noi andiamo a perdere questa zona perché questa è la liquidità che dovrebbe essere in domanda adesso perché qui c'era l'offerta ok era liquidità in offerta vedete che ogni approccio risultava in un in una respinta fin tanto che l'offerta non è stata catturata assorbita dalla domanda e poi è diventato cioè teoricamente se il flip è completo diventa liquidità in domanda ed è anche questa una delle ipotesi sulle quali si basava la mia posizione in questa in questo punto qua ok no batteria mouse molto scarica benissimo ci mancava solo questo e quello che vi volevo dire è che sostanzialmente adesso se la domanda rimane quindi se la domanda mi dà ragione e continua a sostenere questo movimento allora io sono molto contento e vado avanti in questa direzione quindi tengo la posizione aperta e magari godo del reclaim del range che sarebbe appunto lo scenario bullish al contrario qualora dovesse perdere e rientrare nel range riassorbire il range ritornare nella situazione in cui ci trovavamo a luglio allora tutto questo non sussiste e mi salta lo stop loss ed è ovviamente lo scenario bearish l'ho messo qua sotto perché c'è un altro supporto importante cioè questo livello di liquidità che al momento dovrebbe sostenere un po' quindi se fa un'altra leg down e buca anche quello è abbastanza per farmi dire ok abbiamo perso questo pool di liquidità siamo ritornati all'interno del range facciamo un passo indietro e ritorniamo al lontano maggio giugno e luglio sì 2020 quest'anno sempre però ovviamente abbiamo perso tutta la fase terminale dell'uptrend e questo non è affatto bello anzi è terrificante come scenario e quindi non mi fa più venire voglia di tenere aperta una posizione long in realtà non c'è nient'altro da aggiungere per bitcoin perché la situazione al momento non è da aprire posizioni se non l'avessi già aperta non l'aprirei in quanto ci troviamo a lateralizzare dopo un forte un forte impulso ribassista su una situazione che non è delle migliori perché siamo su un supporto che doveva generare domanda non l'ha generata è arrivato un impulso di offerta e ci stiamo lateralizzando intorno quindi spesso dopo un forte impulso e lateralità c'è un'altra leg down tuttavia ve l'ho detto c'è questa possibilità e quindi io ho tenuto aperta la posizione ma se la dovesse aprire adesso non lo farei detto in maniera molto sincera so che sembra un po' un controsenso per certi versi però è così insomma ora come ora non l'aprirei l'ho già aperta piuttosto che chiuderla anticipatamente tengo la possibilità che vada in quest'altro modo per aprire posizioni allora abbiamo questo mini range qua all'interno che magari nell'intraday potrebbe servire a qualcosa in che senso nel senso che se noi andiamo a rompere il range quindi a chiudere il daily qua fuori o qua fuori nell'intraday mi potrebbe dare un bias per espormi long oppure short tuttavia questo punto rimane circoscritto su posizioni di brevissimo perché una posizione long andrebbe comunque da qui a qui perché andare più su ovviamente abbiamo una resistenza più forte più high time frame da rompere e allo stesso modo lo short andrebbe da qui a qui perché il macro rimane bullish vi ricordo comunque il quadro complessivo è sempre bullish questo direi che è quanto io come punto di agire allora la mia posizione la sapete l'andrei magari a rinforzare che sarebbe un altro setup long nel caso in cui dovessimo fare un reclaim degli 11.000 quindi se io fossi fuori attenderei il reclaim degli 11.000 per aprire la posizione long perché è un segno molto forte di domanda perché andremo a recuperare il range stesso e confermeremmo quindi l'ipotesi di deviation andiamo a vedere un attimino adesso le altre mie posizioni che sono Atom che ce l'ho ancora aperta anche questa perché lo sapete ve l'ho detto l'avevamo aperta qua non ho fatto take profit dopo questo pump mea culpa infatti mi sono scritto a caratteri cubitali le regole da seguire in particolare dopo un insane pump fare sempre un take profit parziale dopo un pump del 30% se non fai take profit sei un pirla poi abbiamo BNB che è bullish molto bullish mi sta piacendo tantissimo ed è letteralmente la posizione che ha dato il maggior numero di possibilità di entrare dell'ultimo secolo perché se guardate allora l'ipotesi era come vi ho spiegato innumerevoli volte deviation dal range anche in questo caso vedete abbiamo il mega range e abbiamo fatto un rientro poi test tac e qui era il punto di ingresso ok cioè la deviation è stata confermata in questo momento dal movimento che è rientrato all'interno del range e poi quindi su retest in maniera molto cauta si poteva entrare lo stop loss sotto i minimi bello largo perché le altcoins sappiamo che sono volatili e poi cosa è successo è successo che c'è stato un'altra deviation un altro test un altro test e un altro test quindi quattro opportunità in più di entrare adesso sembra che abbia fatto finalmente un higher high confermato perché abbiamo il primo segno di flip ovvero la chiusura qua in alto e la domanda che nasce al riapproccio qui sotto quindi ormai adesso mi sembra che per aprire una posizione di questo tipo sia un po' tardi i prossimi approcci da vedere sono con questa zona di top e poi con il range high quindi quest'area qualora venisse violata rialzo anche quest'area 0,0025 quindi una cosa di questo tipo si parla di inversione macro finalmente perché adesso sul macro siamo ancora in lateralità dopo un violento storno ok quindi questa è la situazione su bnb io sono ancora long e la evolverò in questa maniera poi abbiamo ether che sono ancora long però mi sta convincendo un pelino meno perché come vedete c'è stato questo che è il supporto principale su time frame settimanale a un cluster è stato un po' sfruttato troppo vedete assorbimento qui assorbimento qui assorbimento qua e in particolare se dovessimo andare a iniziare a chiudere delle candele giornaliere qua sotto chiudere proprio intendo allora credo che uscirei dalla posizione long speculativa perché qua c'è una resistenza molto violenta che l'avevamo vista meglio su time frame settimanale che vedete nasce proprio da un vecchio costrutto storico e il superamento da un lato di questa resistenza ci porta a un vuoto che arriva fino a 0,055 quindi dà veramente una forte possibilità di uptrend però ve l'ho detto già dal primo momento da quando la stavamo approcciando mi stupirebbe se la bucassimo immediatamente senza fare nessun tipo di esitazione quindi la stiamo facendo stiamo stornando anche se dovessimo perdere questo livello di supporto qua bisogna stare molto attenti a quest'altro 0,028 perché è un pool di liquidità in domanda notevole e soprattutto la struttura bullish non sarebbe intaccata se arrivassimo qui vedete è un precedente high quindi è sempre un costrutto bullish al contrario se dovessimo perdere anche quel livello lì e addirittura gli 0,025 quest'area qua quindi andare a fare una cosa di questo tipo e finire qui dentro vedete che andremmo a perdere anche quest'altro livello chiave vedete quanto è importante storicamente ritorneremmo in questo costrutto di bottom quindi faremo grossi passi indietro e la struttura bullish per quanto mi riguarda sarebbe fortemente compromessa compromessa poi che cos'altro abbiamo allora avevamo REN che però sono uscito e quindi direi che questo è quanto sono tutte le mie posizioni attualmente in altcoins adesso quasi quasi andiamo a vedere IOST perché mi è stato chiesto un sacco di volte io lo ho promesso e lo vediamo subito allora IOST vedendolo così non mi convince più di tanto perché mi sembra molto appiattito quindi in questi casi vado a vedere il settimanale il settimanale ci dice che è in una fase poco interessante sinceramente fin tanto che quanto meno non recupera 79 satoshi perché almeno forma un primo costrutto di bottom che sarebbe questo anche lui da solo non vorrebbe dire molto perché in realtà ce ne sarebbe uno più forte che è qui c'è una resistenza abbastanza marcata vedi che se recuperata potrebbe formarne uno un po' più interessante e soprattutto andare a recuperare un supporto un po' più forte però la struttura è fortemente bearish abbiamo lower highs lower lows e anche su high time frame quindi l'unico scenario che vedo attualmente plausibile su questa coin visto che è un po' appiattito dopo il downtrend è un'accumulazione per investimento di lungo periodo che però non lo so sulle altcoins ve l'ho detto lascia un po' il tempo che trova e c'è da rifletterci insomma da non far innamorarsi del progetto così senza capirne bene i rischi torniamo a noi amici miei vediamo qualche altra domanda allora così così andiamo a vedere qualche altra coin ciao come lo vedi tron si ci sta tron andarla a vedere oggi allora tron la vedo bene a dire la verità guardate questo è il grafico settimanale e si evidenzia subito una possibilità eccola qui tac che sembra già stato ritestato però mai dire mai insomma questo è il primo livello di supporto da tenere sotto controllo sotto osservazione poi abbiamo una resistenza bella tosta qui che è la prima a cui abbiamo cozzato contro poi abbiamo un altro livello chiave che è questo qua che è un'altra resistenzina se vogliamo poi ne abbiamo un'altra faccio un bel copia in colla perché sono pigro qui tacchete altro clusterino e direi che questo è quanto per ora volendo ne abbiamo uno anche qua però forse è minore perché poi è stato bucato ma si lasciamolo fuori questi questi sono quelli che terrei più in considerazione quindi primo segno qua tac la chiusura qua sopra confermata e poi magari su retest c'è un primo entry va bene con stop loss possibile magari sotto a queste shadows in caso di rientro poi cioè riassorbimento del brick stesso questo è un setup speculativo che ci potrebbe assolutamente stare ve l'ho detto Tron sta portando cioè sta cavalcando un po' l'onda della DeFi con la retorica dell'essere più veloce di Ethereum ok l'abbiamo già sentita tante volte però c'è la piattaforma Just che è un DEX una sorta di uniswap che ha preso abbastanza piede poi ha fatto alcune acquisizioni interessanti sembra in ambito DeFi Tether ha lanciato sulla piattaforma Tron sulla blockchain Tron proprio per problemi di lentezza di Ethereum quindi insomma sta crescendo finalmente si vede qualche applicazione più concreta della blockchain Tron può valer la pena lo dico da non dico hater ma da non simpatizzante di Justin Sun però può valer la pena magari iniziare a darci un'occhiatina perché comunque Tron ha continuato a costruire nel tempo andiamo avanti con le ultime domandine ciao Luca potresti indicare una entry su Chainlink Euro addirittura allora guarda facciamo così io analizzo lo analizzo in dollari perché Link Euro non so dove sia e secondo me non ha grossi volumi quindi facciamo che lo andiamo a vedere in dollari e poi eventualmente lo trasliamo lì allora guarda io vedo subito un livello interessante che è questo 8 7,5 8 mi fermo qui perché secondo me adesso ha un po' da stornare insomma vista la violenza di questo di questa correzione potrebbe essere ancora un po' potrebbe esserci ancora un po' di storno se vuoi possiamo andarla ad ampliare fino alla upper shadow così giusto da ampliare le possibilità di entry questo ovviamente punta al fatto che cioè da per scontato il fatto che non si vada a violare la struttura macro perché se poi andiamo a perdere questo livello ok che è uno stop loss ideale per un entry di questo tipo andiamo allora a osservare poi più giù cioè quest'altro livello di supporto 4,4 quindi se dovesse fare così molto bene cioè si deve presentare domanda qua questa è una posizione anticipatrice ripeto cioè si può o mettere già il limit order e aspettare il fill e sperare che vada bene posizione anticipatrice o altrimenti aspettare che arriviamo qui scendere di time frame sul giornaliero guardare un segno di domanda come un engulfing toh facciamo tipo scende così un engulfing bullish e allora subito che ne so due candeli indietro metto l'entry sul retest e cerco di fare una cosa di questo tipo è un'entrata più cauta va bene è la differenza di cui parlavamo poco fa se al contrario facciamo così e lo stop loss salta allora attenzione a 4,45 stessa cosa di prima ci sono le due possibilità questo è un po' link in euro poi fai magari la conversione questo se vuoi fare un trade se vuoi fare un investimento il discorso è sempre quello di andare a fare il cioè andare a fare media mediare i prezzi a fare la famosa dca che va sempre bene dunque 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 un occhio a cardano andiamo a dare un occhio a cardano altra coin di cui non sono particolarmente fan ma allora speculativamente ci aveva provato perché aveva provato a fare un breakout vedete qua aveva fatto questo range che noi avevamo seguito vi ricordate ha fatto il breakout io volevo entrare qua tra l'altro e non ci sono riuscito ma ha missato tipo di due satoshi e mi ha fatto girare abbastanza le palle poi però ha fallito nel fare un higher high e questa è una cosa molto brutta per quanto mi riguarda questo è un segnale di non cambiamento di struttura quindi continua non piacermi e io non ho intenzione di toccarla tante nuove coin da ignorare viva bitcoin potresti controllare STX che cos'è STX? ma è Synthetix no SNX STX Blockstack mi fate conoscere sempre delle nuove coin voi siete fantastici allora storico basso storico breve anzi quindi non mi sconfinferà più di tanto però 2553 è una resistenza che attenderei di veder violata per entrare long tutto qua questo è con discorso che qualora dovessimo fare un bel breakout c'è la possibilità di entry poi sul top della shadow per avere meno possibilità di mancare quindi per cercare di entrare il più possibile stop loss nel caso di assorbimento e quindi di perdita della zona recuperata però ripeto storico basso non conosco la coin e tutti i disclaimer del caso dunque 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 vediamo cos'altro ci abbiamo qui al volo link e cava allora link lo andiamo a vedere anche in BTC e poi andiamo a vedere pure cava che poi tra poco me lo sento mi si scarica il mouse me lo sento veramente allora link guardate link BTC che è il grafico che mi piace di più allora time frame settimanale vediamo che c'è solo quest'area intermedia durante questo folle uptrend che però non ci dice molto è un'area troppo larga quindi preferisco tornare sul giornaliero qui abbiamo una struttura fortemente bullish con segni di inversione sul giornaliero guardate cosa abbiamo allora abbiamo una resistenza molto forte che è questa che si è tra l'altro confermata tale guardate l'offerta come ha agito in prossimità di essa ha svenduto di nuovo riattaccando il supporto che è quest'altro cluster vedete nasce da qua e al momento questo supporto ha iniziato un po' a scricchiolare perché guardate cosa è successo è curioso questo movimento abbiamo dampato sotto il supporto siamo caduti dritti dritti nella zona di liquidità in domanda qua sotto vedete tra il top tra la chiusura top e la shadow top e c'è stata domanda perché abbiamo avuto una candela engulfing bullish e adesso c'è un lento retest quindi questa volendo per chi ha voglia di buttarsi in link potrebbe essere un'opportunità speculativa con stop loss qua viene difficile ipotesi 1 speculazione più aggressiva stop loss da questa parte più o meno sotto un po' cioè il livello chiave da considerare che voglio non vedere assorbito è questo perché è il cluster di domanda e lo stop loss però ovviamente lo metto un po' sotto magari sotto queste shadows giusto per altrimenti stop loss qua sotto però è più largo vedete voi insomma quanto deve essere speculativa oppure no in caso di perdita anche di questo livello andiamo a finire qua dentro quindi 1 e 2 sono gli altri livellini e poi si segue insomma vediamo perché se dovesse perdere anche questo livello qua insomma inizia a diventare una correzione un po' più profonda che va a perdere il precedente high diventa uno storno destinato a durare un po' di più sicuramente andiamo a vedere CAVA CAVA BTC eccolo CAVA BTC anche lui insomma inizia a mostrare dei segni di debolezza è stata una coin che ha bollato è andata abbastanza parabolica e adesso ne sta pagando un po' lo scotto perché ha fatto un costrutto di top che è questo l'ha violato al ribasso violando anche questa zona che era vedete un range che nasce qui quindi un cluster di prezzo bucato adesso stiamo gravitando qui sotto quindi sinceramente non vedo più segni di domanda e quindi mi aspetto altre leg down a meno che ovviamente non si veda il segno di domanda il primo segno di domanda potrebbe essere un reclaim di questa zona quindi così e allora potrebbe essere interessante un eventuale entry long ma altrimenti la cosa più plausibile che vedo è un lento per poi di nuovo fare un attacco ribassista se vediamo persa anche quest'area non benissimo perché vedete che rientriamo un po' nella zona iniziale e quindi i supporti principali poi sarebbero qua all'interno tra 11.300 e 13.000 satoshi questa è cava paga un po' lo scotto della bolla del movimento parabolico allora termino dicendovi una cosa non so se avete visto questa bellissima maglietta che ho su me l'ha mandato un amico che ho conosciuto l'anno scorso alla Crypto Coinference a Milano e ha aperto una piccola attività dove produce questo c'è un piccolo negozietto in realtà su ebay per adesso ve lo raccomando si chiama odler squad e vedete non c'è soltanto questa che dice che bitcoin è morto e qua in piccolo c'è scritto 380 volte che adesso secondo me sono già di più ma ce n'è anche altre guardate me le ha mandate tutte infatti questa fierissimo l'ho messa stamattina in ufficio odler squad e poi abbiamo quest'altra che la vedete sempre lì con dentro la famosissima frase del times insomma inclusa nel genesis block e mi piacciono mi piacciono sono di qualità sono belle c'è il loro loghetto qua in tessuto qui sotto e quindi ve li scillo molto volentieri ringrazio Cesare se mi stai guardando per averme le mandate se le volete anche voi qui su ebay guardate vi scillo anche il link perché ne vale davvero la pena una cosa carina insomma così per fare un po' i bitcoiner come si deve quale bitcoiner non ha una maglietta per l'angolo shilling vi ripeto ancora che su buybit per il mese di settembre col mio referral link se l'avete già usato bravi se non l'avete usato non avete ancora un profilo su buybit fatelo col mio referral link che trovate in descrizione sul tubo ho shillato qua nella chat ogni tanto sconto del 20% sulle maker fees quindi sugli ordini di tipo market detto questo vi faccio un caro saluto ci vediamo venerdì in live e giovedì per un altro video che devo ancora decidere quale sarà chissà mi verrà l'illuminazione in questi giorni sempre e comunque gasati ai massimi mi raccomando perché questo è ciò che ci contraddistingue ragazzi di nuovo un caro saluto e alla prossima e alla prossima